Adesso vorrei fare, come al solito, prendere spunto da qualcosa che ho sentito alla radio poco fa. Sentivo un'intervista a un monaco della comunità di Bose, il quale diceva dovremmo passare dal paradigma della guerra, diciamo dobbiamo fare la guerra al virus, combattere il virus e così via, al paradigma della cura. E anche questo sappiamo che in medicina non è che si combatte, si cerca di trovare una via d'incontro col virus. La medicina contemporanea non vede il sistema immunitario come qualcosa di bellico, ma lo vede come qualcosa che interagisce con un elemento che deve decidere se è tossico o non è tossico e quindi adattarsi a seconda delle situazioni. A parte questo aspetto sulla medicina, più in generale mi sembra che anche questo monaco, evidentemente molto colto e molto intelligente, però per alcuni aspetti ricade nella stessa logica di Ernesto Galli della Loggia. In un articolo che ho tenuto, in una bacheca di Ernesto Galli della Loggia, uno dei sociologi più riconosciuti in Italia, che scrive sul Corriere d'Alsera e quindi ha un grande potere di influenza, diceva che in fondo la vera colpa è di noi italiani, che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Per cui noi siamo un paese distrutto economicamente, ma è colpa degli italiani, perché non hanno avuto abbastanza iniziative e così via. È evidente che dal punto di vista neoliberista è un'ottima propaganda, va benissimo che dica così, si capisce. Il Corriere della Sera ha come compito di fare da megafono i neoliberisti e Galli della Loggia lo fa. Quindi far sentire un popolo inadeguato è un ottimo strumento di potere. Da un certo punto di vista, purtroppo anche questo monaco, sicuramente persona intelligente e buona, mi sembra che per qualche aspetto ci cade anche lui questo. Quando dice che il coronavirus ci deve dare, appunto, farci passare dal paradigma della guerra al paradigma della cura. Cioè noi dovremmo essere persone che si prendono cura gli uni degli altri. E quindi finalmente il coronavirus ci ha fatto capire che gli altri siamo noi stessi, insomma, che quindi dobbiamo essere accoglienti, non continuare a mettere barriere nei confronti degli altri, certo. È certo che è tutto giusto. La domanda è. Ma siamo noi che abbiamo scelto questa filosofia di vita? Cioè è ciascuno di noi che all'interno della sua psiche ha deciso di essere disumano? O piuttosto non è un sistema disumano che ha reso disumani gli uomini? Certo che poi gli uomini diventano disumani, certo, è ovvio. E qui mi rifererei alla lezione di Platone che iniziò a occuparsi di paideia di educazione quando? Quando vide che Atene, che era una democrazia, era evidentemente guidato da personaggi così squallidi e così incompetenti, arroganti, che l'esempio di questi personaggi al governo della città faceva sì che nessun giovane potesse essere, ricevere una buona educazione. Cioè anche un giovane educato poi veniva corrotto da questi cialtroni. Non è forse questa la situazione di oggi? È certo che è questa. Il neoliberismo ha bisogno di persone egoiste, chiuse in se stesse e quindi diciamo che il neoliberismo ha creato tutte le condizioni peggiori per cui non lo possiamo diventare. Ora, dire che parlare di guerra è uno sbaglio? Allora, attenzione, perché la cura è in primo luogo cammino verso la verità. Ora, possiamo dire di non essere in guerra oggi e che non eravamo in guerra prima del coronavirus e lo siamo stati sempre? L'umanità no, non possiamo dirlo. L'umanità ha sempre praticato la guerra. Benissimo, ma adesso che tipo di guerra è quella più devastante di tutte? È quella invisibile, quella che il neoliberismo ha fatto contro le coscienze degli uomini. Lo ha fatto attraverso gli strumenti della finanza, che sono così raffinati e complicati da non essere compresi dalle persone. Quindi, in questo momento si sta discutendo in Europa che cosa fare per combattere non solo la pandemia del virus, ma il disastro economico a cui stiamo andando incontro. Ora, ci si riunisce e si discute su questo. Ma il disastro economico è iniziato adesso? Cioè, è adesso che le cose vanno male? Non andavano male? Anche malissimo prima del coronavirus? Certo che andavano malissimo. Allora, l'Unione Europea, che fa finta di essere un'unione, mentre è un'unione delle banche contro i popoli, adesso fa credere, grazie ai giornali che sostengono quest'idea, che stanno facendo di tutto per aiutarci e quindi devono discutere. Per esempio c'è un autorevole rappresentante dell'Unione Europea che ha detto, ma perché l'Italia per esempio non vuole accettare il MES? È uno strumento ormai molto diverso da quello utilizzato in Grecia. Sentite bene. Cioè, un neoliberista che fa parte, non mi ricordo più se la Commissione, l'Unione Europea, ha detto che oggi il MES è diverso da quello che ha portato il disastro greco. Quindi sta dicendo che è stato il MES a portare il disastro greco. Lo ammette. Allora, noi dovremmo fidarci di un personaggio il quale ha contribuito a creare il disastro della Grecia e che oggi dice, sì, sono stato io, il mio modo di pensare, il nostro modo di pensare ha portato il disastro della Grecia. Allora, quindi noi dovremmo far chiedere aiuto a chi ha distrutto la Grecia. Ma vi sembra fidabile una persona così? Allora, lui si fida molto che noi abbiamo una memoria cortissima, cioè che non ricordiamo cos'è stata la Grecia. La Grecia è stata un disastro e lo è tutt'oggi ovviamente, è in condizioni disperate. L'Italia è un paese che sta facendo la fine della Grecia. Allora, vediamo, poi, seconda cosa, vediamo su cosa sta discutendo l'Eurogruppo. Questo è fantastico. Se insistere sugli Eurobond o sul MES, quale delle due? Allora, per chi ha un minimo di conoscenza di ciò che è essenziale, sa che una è un disastro e l'altra pure. Perché in tutti e due i casi, comunque, il nostro debito nei confronti delle banche aumenta. Aumenta il nostro debito proprio mentre le nostre imprese sono chiuse. Quindi si approfittano di creare un debito più grande, quindi questi sono veramente dei profittatori, degli usurai, privi di ogni scrupolo. Non dicono, bene, è un momento difficile, sospendiamo la nostra usura. No, ti do i soldi, ma te li do a debito. Ora, è chiaro che il governo Conte sta cercando di salvare la faccia. Infatti ha detto oggi, Conte, o ieri, comunque il giornale, però il report, che Conte è deciso a non cedere al mess, quindi sembra un eroe. E c'è un economista molto stimabile, che è Nicoletta Forchero, che parlando con una sua amica su internet, dice, beh, se non è zuppa è pan bagnato. Cioè, voglio dire, mess o euro bond è la stessa cosa, perché si tratta sempre di moneta a debito. Moneta a debito significa che poi dobbiamo restituirlo, anche se ce lo fanno a un prezzo basso, interesse basso, lo dobbiamo restituire. E come lo restituiamo, essendo le imprese chiuse e quindi in questo periodo le imprese di cosa avrebbero bisogno? Adesso, se avessimo dei bambini dell'asilo, diciamo delle prime elementare, spiegandogli da un po' lo capirebbero. Le imprese hanno bisogno non di prestiti, ma di denaro liquido regalato, immesso nelle loro casse per pagare i loro dipendenti, per mantenere in modo che poi, quando riprendono, non hanno un debito più alto. Invece si dice dovete baciarci i piedi dove camminiamo perché facciamo un prestito. Ma fare un prestito, un'impresa così, significa semplicemente predisporla al fallimento e predisporre comunque il sistema italiano all'intervento di quella meraviglia giuridica che è la Troica, BCE, Fondo Monetario e Commissione Europea. Fra poco, tranquilli, arriverà la von der Leyen a parlare al Parlamento Europeo, a dire quali sono le sue idee rispetto al superamento della crisi europea. E potete immaginare quali sono le idee della von der Leyen. Chi è la von der Leyen? Un'ottima collaboratrice della merca, quindi proprio la cancelliera che più di tutte in Europa ha cercato, in questo periodo, di fare in modo che i paesi del sud non ricevessero alcun aiuto di nessun tipo, cioè dovessero pagare gli interessi ancora e così via. Quindi ci troviamo di fronte alla spietatezza di un sistema finanziario infame che, secondo me, adesso ha tirato un po' troppo la corda e quindi fra un po' salterà. Allora, il coronavirus, se otterrà questo risultato, potremmo dire che ottiene un ottimo risultato, perché noi comunque stavamo autodistruggendoci, stavamo distruggendo il pianeta e stavamo completamente distruggendo la giustizia sociale. Adesso voglio aggiungere alcune considerazioni sulle case di riposo, su gli homeless e così via. Adesso si parla molto questi fenomeni, no? Persone che non hanno la casa o persone che sono in case di riposo e quindi sono, per esempio, quelle in case di riposo cominciano a contagiarsi e così via, no? E quindi cosa si fa? Si prende questo elemento e adesso ingrandisce così. Bravi, importante. Peccato che si ingrandisce così questo argomento, sicuramente utile da sapere, e si fa piccolo così la causa, perché le case di riposo con i problemi che c'erano e anche gli homeless non sono mica iniziati col coronavirus. Noi abbiamo tagliato i fondi per tutti i settori. In America dovete sapere che i poveri sono diventati addirittura nemici del popolo, perché sono state fatte leggi che impediscono a un cittadino di fare l'emosina a un povero. Perché il povero è colui che è improduttivo, colui che è un alcolizzato, drogato e incapace di mantenere una famiglia unita, quindi anche malato di mente, quindi un essere dal carattere terribile. Anche lì non è stato difficile al potere, anche lì finanziario, convincere gli americani che le statue stanno proprio così, mentre in realtà i poveri, quelli che sono finiti per la strada, quelli che sono finiti a dormire in macchina, prima hanno perso il lavoro, uno. Due, dopo hanno perso la famiglia, tre, dopo si sono totalmente nella disperazione, a ricorso all'arcol o alle droghe. Allora, la menzogna è parte centrale del sistema mediatico di oggi. Non credete a nulla di quello che vi viene detto, perché ogni cosa che viene detta è mirata a spostarvi l'attenzione sull'unica cosa che conta. Allora, la cosa che conta oggi, che è indispensabile come l'aria, è una scelta tra due possibilità. Quella costituzionale, quella spirituale, quella della umanità nuova, è quella dell'umanità vecchia, materialista, attaccata ai soldi, violenta, menzognera. Bene, queste due umanità si distinguono nelle cause profonde, oppure, come dire, gli strumenti profondi, quelli che sono essenziali. Da questa parte c'è la moneta non a debito, la moneta del popolo. Qui c'è regolarmente la moneta a debito. Qui a governare sono i popoli democratici, con il sistema rappresentativo, quei loro parlamenti decidono le loro politiche. Qui a decidere la politica dei popoli sono le grandi banche. L'avete capito o no? Se l'avete capito, perché non lo dite? Se l'avete detto, perché non lo dite ancora? Perché non lo fate capire a tutti? Perché è banale. Se non riuscite a fare questo passaggio, quando sarà possibile, che saremmo usciti dal coronavirus, vi farò vedere in due ore come dei bambini e della prima elementare capiscono benissimo una cosa così. Quindi, non sottovalutate la vostra intelligenza, non sottovalutate le vostre possibilità di capire le cose, perché in effetti, se uscite dalle spiegazioni mainstream, che sono fasulle e incomprensibili, quindi vi capisco che non vi volete più occupare di niente, ma se andate verso qualcuno che vi parla chiaro, le capite in un attimo, sono molto semplici. Vi aggiungo un'ultima cosa. Quando c'è moneta non a debito, cioè lo Stato può immettere moneta, significa che lo Stato non dipende finanziariamente dalle banche. Spostiamo dal livello collettivo a livello individuale. La moneta a livello di persone, per l'io collettivo è la moneta, per l'io individuale le sono le emozioni. Noi possiamo essere indipendenti emotivi, indipendenza affettiva, oppure possiamo essere dipendenti affettivi. Che significa? Che io non sono in grado di generare dentro di me, pur essendo adulto, le emozioni positive, la gioia, l'allegria, l'entusiasmo, la passione per qualcosa. Dipendo da chi? Dipendo da qualcun altro. Ora la dipendenza affettiva in psicologia è una patologia, è normale che si dirà la patologia. Non si dice, cioè non esiste in psicologia qualcuno che ha creato una teoria dicendo che bisogna che gli esseri umani diventino dipendenti affettivi perché noi possiamo stare meglio come umanità. Bene, negli economisti ci sono dei cialtroni di questo tipo, cioè che se fossero gli psicologi, avessero fatto gli psicologi, avrebbero detto che la dipendenza affettiva è la garanzia del progresso dell'umanità. Insomma, ragazzi, ma vi rendete conto? Quando una persona ha una dipendenza affettiva, se uno psicologo gli dicesse colpa tua, sarebbe uno psicologo sensato, sarebbe un totale credito. La dipendenza affettiva dove nasce? Non è che uno a vent'anni, quando ha più coscienza e così, dice adesso, porca miseria, scelgo la via della dipendenza affettiva. Mi fa proprio piacere strisciare per terra di confronto a qualcuno che mi domina. Ma è chiaro che sarebbe una follia. La dipendenza affettiva è parte del copione di vita di moltissime persone. E il copione di vita, amici miei, quando si forma? A 30-40 anni? O si forma a 2, 3, 4 anni? E anche prima? Un anno? E anche prima? Il copione di vita si crea quando siamo molto molto piccoli e quindi non abbiamo una visione di insieme. Così come esiste il copione individuale, esiste il copione collettivo. Noi siamo dentro un copione collettivo in cui coloro che ci governano, più grandi di noi, quelli che hanno preso la responsabilità, sono come i genitori in confronti dei bambini, ci hanno indotto a regredire all'età infantile e a credere alle loro stupidaggini, immettendo dentro di noi le classiche frasi che sentite in tutte le interviste che facciamo. Io non sono all'altezza, è colpa mia, non riesco, non sono abbastanza. Frasi che 30-40 anni fa non diceva nessuno. Le dicono oggi perché il copione collettivo dell'umanità generato dai leader di questa infame economia non fanno che ai popoli e alle persone inviare questo messaggio, insieme all'altro terribile, che non c'è alternativa. Allora ieri vi ho fatto vedere, credo ieri o altre ieri forse, vi ho fatto vedere come una terapia individuale funziona se si ripara l'ingiustizia, cioè se i più grandi si prendono responsabilità dei più piccoli. Questa è la cosa. Quindi la terapia collettiva dei popoli, la più semplice, sarebbe questa, che i governanti si risvegliassero una mattina e prendessero la responsabilità di tutti i danni che hanno fatto. Cioè facessero in pratica un'operazione simile a quella prevista nel libro di Desmond Tutu che descrive cosa è successo in Sudafrica, la commissione di verità e riconciliazione, in cui coloro che si erano macchiati di terribili crimini erano pronti a parlare di fronte alle vittime dicendo tutto quello che avevano fatto. Se i governanti facessero così, chiaramente il paese Italia guarirebbe, il paese Francia guarirebbe, guariremmo tutti molto in fretta. La possibilità che questo avvenga praticamente è zero. Quindi siamo noi più piccoli, cioè noi che siamo condizionati, sia dal nostro copione personale, sia dal nostro copione collettivo, a dover fare questo passaggio. Però risorge una grande opportunità. Non possiamo fare questo passaggio con la mentalità infantile che ci ritroviamo. Non siamo manca il grado ormai di educare dei figli. Figuriamoci a fare un passaggio così. L'unica possibilità che abbiamo è ricorrere a chi è più grande di noi. Certi governanti sono più grandi di noi come potere, ma sono ancora più piccoli come mentalità. I più grandi sono i veri maestri dell'umanità. Quindi ecco perché diamo così importanza ai mentori. Cercate di mentori nella vostra vita, i grandi maestri spirituali. Leggete i loro testi, frequentate i video che ne parlano, cominciate a capire che loro vi parlano di verità. Verità profonde ed eterne. Mentre questi altri, che vi hanno fatto credere di sapere cose che non sanno, che sono dei imbroglioni inqualificabili, vi hanno mentito continuamente. Quindi la ripresa della ritorno dell'umanità sulla terra ci sarà attraverso un ritorno alla verità, alla giustizia, alla bellezza, al bene. E questi sono i grandi valori su cui si regge la Costituzione italiana.